Ciao a tutti da Gentubers, si è a chi? Eeeh... Che scanti voi! Ospite, perché Tommy non c'è, allora ho dovuto trovare un sostituto. Un degno sostituto. Ma, questo lo vedremo poi. Allora Giulio, dove siamo? Siamo su Red Faction Armageddon One's Gerdon. Si, che sarebbe il 2 di Red Faction Guerrilla, acquistato poco tempo fa in bundle a 80 centesimi ragazzi, 80 centesimi. Insieme ad altri 5 fantastici giochi... Quali Metro 2033 e... Compagnia Fieros e Darkseid R1. E Darkseid R1, giocco. 80 centesimi in tutto, ottima offerta. E questa qui è una partitozza online, di cui non sappiamo bene noi come fare. Perché è la prima volta che abbiamo in mano il gioco. Però non penso avremo dubbi, data la nostra proezza. Almeno la mia. Quella di giù non... Proagine si dice, è proagine. Ah, hai ragione, è proagine. E anche proagine esiste come termine. Comunque l'obiettivo di questo gioco, anche questa modalità di gioco, è difendere i punti e soprattutto spappolare gli alieni, avversari, nemici e bla bla bla. Esatto, e flafferie varie. Allora... Questa arma che sto usando adesso è una calamita che ha punizioni infinite e attira il primo punto che sparo sul secondo punto. Tutte le costruzioni sono tutte distruttebili al cazzo di Battlefield. Qui si distruggono veramente tutto. Però si possono anche ricostruire premendo il tasto destro, il tasto centrale del mouse. Ad esempio... Aspettate, mi libero di questo insinfica. No, no, era mio. È mio. C'è qui. Ok. Andiamo a vedere, questa qua che è la postazione che dobbiamo distruggere, vediamo che qua è distrutta, lanciamo il tasto. Et voilà, lanciamo il tasto. Cosa volevo dire? Volevo dire... No, il mouse, perché lo lanci? Sì, esatto, lancia proprio il mouse. Ecco, vedete? Ma non capisco un mouse. Non capisco come ricostruire quel... Ah, mamma mia, che però... Sì, lo sto costruendo io, veramente. No, verità lo sto costruendo io. Ma fa lo stesso. Spacolo, vieni, vieni. Vieni, girati, girati. Oh, bastardo. Vedi, vedi, ricostruiamo il ponte. Dai, ricostruisci il ponte. Bob lo aggiusta tutto, Giulio lo aggiusta tutto. Com'è che faceva la cantoncina di Bob lo aggiusta tutto? Eh, non l'ho mai visto, quindi... Sei proprio un ignorante! Come fai non aver mai visto Bob lo aggiusta tutto? Quanto ci se ne hai fatto? Quanto ci se ne fa? Sono il più nob del server. Io? Undici. Va bene. Non c'entra niente. Sei, conta... L'importante è partecipare, insomma. Ah, ecco. Già, fai lo stronza, adesso ti scaglio delle lamiere addosso. Dove sei? Adesso ti scaglio delle lamiere addosso. Sì, sì, ah? Ah, ma... Quanto? Beh! Suca! Mori? Perché non muori? Sei fermo, ti prego! Te ne prego, signore, te ne prego. Dov'è la cosa che dov'è? Oh, dobbiamo proteggere le cose alle... Oh, dobbiamo proteggere quattro punti qua, oh. Cinque. Non se neanche contà. No, hai ragione. Hai problemi? Vabbè, mamma mia. Questo ragazzo. Quanto c'è in matematica? Quattro o cinque? Cos'era quella? Un tentativo di farti sentire un comico. Però è bello quando si supera una scala e tu vai lì e le costruisci così. Sì, è vero. Guardiamo. Guardiamo come è costruire. Maledizione. Dai, lancia quella pallina insulsa. Sì, cazzo. Voilà. Ci sono i danni di accaduta? No. Posso cadere da un palazzo? No, perché tipo siamo su Marte o sulla Luna, tipo, e quindi non c'è la gravità. Dovrebbe essere così. Però noi con le nostre tute siamo incollati a terra. Ah, figo. Almeno credo. Guardatelo, poverino. Ho tirato un elastico. Un elastico? Sì, un mostriciattolo. Guarda come gli tiri, gli tiri come elastici, poverino. Fai vedere come è sicura piuttosto. Oh, devo salire qua io, se no non si sa. Oh, fai vedere come mi spiacciono i mostrici con il maglio magico. Il maglio magico, addirittura è un'arma che non lo... Dove sei? Questo splaccio. Dove sei? Uh, c'è uno gigante. Puff. Sto prendendo a pugni. Te l'ho rubato. No. Giulio, me che testa... Ah, fa lo stronzo, eh? No, perché non ti posso fare niente? L'altra mappa ti potevo uccidere. È vero. Oh, ti ha buttato per terra col tipo, eh? Dai, ricostriamo un po', facciamo... Faccio vedere la capriola all'inietro da... 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 C'è chi c'ha. Ah, già, voilà. Voilà, no. Guarda, guarda, guarda. No, è già finito il round. Quanto siamo? 5 minuti e 20, dai, c'è mi sta un po'. Quattro incisioni. Vabbè, ma io mi diverto a costruire. Io non voglio fare il griffer. Oh, bella, ci sta tutto. Sì. Oh, poi, tipo, ci sono i servizi dedicati, sicuramente, da che io lo sto stando, in giuria, ma non la che per niente, quindi, o no. No, assolutamente. C'è anche quello di lato, guarda, è Cilatino. Dove sei? Cilatino, Cilatino, guarda. Oh, è vero? Dunque, come per usare l'arma, anti... no, l'abilità, non ho proprio, oh, cazzo, ho distrutto un muro. Non c'erano tre, tricomone, 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 tricomone. Sto morendo, sto morendo, sono morto, sto morendo. ii ai 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 no se non sei fa io io lo vedo Gordon capo scafa capo noa chi sta battendo sui corso che non so cosa sia chi deve proteggere assolutamente è una nastro idro edific capturing va storia. mano odorimin uno madame posto pistole fanno disastro ehi a chi era deciso se registrare battere tutto questo ma secondo me non c'è storia ma questo qui è un gioco davvero che merita poi con quelli 80 cent si che poi se non sapete era il bundle humble bundle zoom per la THQ che sta fallendo purtroppo guardate qui fattitori del genere come fa a fallire perché ci sono i posti che scaricano giochi vai vai facciamo cosa tipoteggio si? o tipo te ho le registrazioni non è vero ti dici soltanto perchè vuoi rovinarmi la carriera militare militare? dai qui io non mi affega dei mosti io voglio soltanto ricostruire si dici questa è una scusa perchè ora vedrete che ci avrà tipo 2 kill hai problemi mi piace ricostruire si si trova una scusa dove sono? ah non lo so io sto ricostruendo si perchè ti vedo sparare? perchè devo sparare con le palline per ricostruire ne mancano 3 qui 3 gli insiderò io e diventerò il primo del server non mi cominci tanto lo sai bam io 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 si l'ho deciso io questo si l'ho deciso io questo dobbiamo salutarsi Giulio e Giulien guardiamo intanto quante kill abbiamo fatto zero direi di questa qua la taglia sicuro direi che dobbiamo salutarsi Giulio sei una merda io ho riparato più più palazzi del bamba giusto a tutto in tutta la sua stagione televisiva quindi zitto da scattiboli tutto bamba a tutti ciao ragazzi mettetevi in piaccia se vi piace questa serie che faremo molto manza come Battlefield quando ci capita lo facciamo mettete in piaccia e commentate e iscrivetevi ciao ragazzuoli MONEY MONEY MONEY